Grazie a tutti. Cellulare 328 10 63 78 4 Arrestato uno degli autori e l'assalto al blindato del 2011 Sequestrate 45 piante di marijuana, in arresto due fratelli Rubato l'ingasso ad un commerciante in pieno centro Iniziati i lavori per il ripristino del manto stradale Il premier Matteo Renzi a peschici per rassicurare la popolazione A pugno chiuso il raduno nazionale della protezione civile Successo per il quarto raduno bandisti del Gargano a Ischitella Pubblicato il calendario del campionato di calcio della seconda categoria Buonasera da TG San Nicandro Come avete sentito dai nostri titoli di testa è stato arrestato un 46enne Complice nell'assalto al portavalori del settembre del 2011 Vediamo il servizio di Vincenzo Giannone I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno eseguito un arresto Nei confronti di Gentile Pio Francesco, 46enne di mattinata Gravemente indiziato dei reati in concorso di tentata rapina Porto e detenzione legale di armi e ricettazione Era il mattino del 2 settembre 2011 Quando un furgone portavalori dell'istituto di vigilanza NP Service Su cui viaggiavano tre guardie giurate Mentre stava percorrendo la strada provinciale 41 bis In direzione San Nicandro Garganico All'altezza del chilometro 4 e località Tufara Fu protagonista di un agguato da parte di almeno 10 persone Armate con fucili Kalashnikov L'agguato fallì grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri Che ingaggiava un conflitto a fuoco con i malviventi Costringendole alla fuga a bordo di tre autovetture Le indagini condotte senza soluzione di continuità dai carabinieri Hanno fatto emergere importanti elementi investigativi Tra cui il ritrovamento di tracce di DNA Nelle autovetture ritrovate due giorni dopo In località Bosco Spinapurci Coltivavano marijuana sullo terrazzo E quando scoperto dai carabinieri di San Nicandro Garganico Che hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio Di sostanze superfacenti Violenza e ristenza pubblica ufficiale Due fratelli di San Nicandro Garganico di 53 e 40 anni Sospettando da tempo la loro attività I lecci dei carabinieri hanno deciso di effettuare Una perquisizione domiciliare Il più grande dei due alla vista dei militari Ha letteralmente perso il controllo Iniziando a gridare in vere contro i militari Spingendo loro per impedire l'accesso nella sua abitazione Incitando il fratello minore a fare lo stesso Alla fine sono riusciti a entrare E hanno sequestrato in tutto 17 piante di marijuana Presso l'abitazione del fratello più grande Mentre poi l'acquisizione è stata anche estesa All'abitazione del fratello minore Sono state rinvenute altre 28 piante Messe ad essiccare Per una quantità complessiva di circa mezzo chilo Un commerciante è stato rapinato Il suo bottino è stato l'incasso di giornata Il fatto è venuto lo scorso 15 settembre In pieno centro Stando alle prime testimonianze L'uomo si stava recando con la propria macchina Presto un istituto di credito per depositare l'incasso Quando è stato bloccato da un'auto Di grossa cilindrata Con a bordo dei mobili venti incappucciati I banditi avrebbero costretto l'uomo A scendere la propria auto Minacciandola con armi da fuoco E a farsi consegnare l'incasso appunto del denaro Per poi dileguarsi Sul caso stanno investigando i carabinieri Sandicandro Garganico Passiamo avanti perché sono iniziati i lavori Per il ripristino delle strade Vediamo il servizio di Concetta De Luca All'interno del centro abitato Si stanno completando i ripristini stradali Eseguiti dalle società Enel Telecom Acquedotto Pugliese E Gas Natural A seguito di scavi precedentemente realizzati E' quanto dichiarato dal gruppo consigliare di Forza Italia Che ritiene giusto che la gente conosca Gli interventi dell'amministrazione Gualano In merito ai ripristini eseguiti Dalle società interessate A fornire servizi essenziali nel nostro comune Quali acqua, luce e gas Le società richiedono l'autorizzazione amministrativa degli scavi In aree urbane E si impegnano a ripristirare In un determinato tempo Le sedi stradali Così come previsto nelle autorizzazioni rilasciate dal comune Finora è successo che la stragrande maggioranza dei ripristini Non si sono completati del tutto Lasciando così le strade pubbliche Con vistose buche O con la chiusura degli scavi in calcestruzzo Che nel tempo si sbriciola Producendo polvere e vistosi cedimenti pericolosi Che possono provocare danni a persone o cose Dopo svariati sopralluoghi effettuati Da alcuni consiglieri comunali E' stata stilata una lunga lista di lavori da completare Che le società si sono impegnate a fare Pur con estremo ritardo Ed in un tempo relativamente breve Torniamo a parlare dell'alluvione sul Gargano Perché il premier Matteo Renzi Ha visitato le popolazioni colpite In particolare quella di Peschici Vediamo il servizio di Piero Vocale Si è passati alla conta dei danni sul Gargano Dopo l'alluvione dei giorni scorsi E mentre ancora si scava Per liberare alcune strade E bonificare i siti delle frane Il premier Matteo Renzi Nella mattinata di sabato 13 settembre Ha fatto tappa Nei luoghi maggiormente colpiti dal disastro L'obiettivo è stato quello Di far sentire alle popolazioni Della montagna del sole La vicinanza dell'intero governo italiano Ed assicurare che lo stesso esecutivo Farà la sua parte quando si tratterà di discutere Del post-emergenza Anche per questo disastro Si prevede che verrà eseguito Il metodo ormai messo a punto Dalla protezione civile di Palazzo Chigi Prima un censimento dei danni Poi la decisione su come intervenire Dal 18 al 21 settembre Si svolgerà il primo raduno nazionale Dalla protezione civile Per 11 anni questa originale iniziativa Si è tenuta in Trentino Alto Adice Con il campionato italiano di scena La protezione civile E il raduno invernale della stessa Dal 2014 i fondatori di questa iniziativa Hanno deciso di spostarsi qui in Puglia Viste le belle location Con un adatto richiamo turistico E anche vista l'efficienza Della protezione civile appunto regionale Il raduno si svolgerà a Vieste Con il Gargano Sulla favolosa Baia di Pugno Chiuso Dove arriveranno Sono già arrivati da tutta Italia Decine e decine di volontari A protezione civile Di funzionari Di dirigenti appunto Dallo stesso servizio Sarà un'occasione per scambiarsi idee In metodi di intervento Ma anche per partecipare A delle piccole gare Sono previste infatti gare di nuoto Pallavolo, corsa e calcetto A raduno è prevista anche la presenza Del capo del Dipartimento Di protezione civile nazionale Franco Gabrielli Il governatore della Regione Puglia Niki Ventola E l'assessore Al servizio di protezione civile Minervini Tutti questi parteciperanno Al convegno fissato Per sabato 20 Proprio a Pugno Chiuso Dove si andano a trattare Le tematiche appunto Della protezione civile Cambiamo discorso Perché a Ischitella Il Gargano vive con la musica È stato infatti Un grande successo Il quarto raduno bandisti del Gargano Vediamo il servizio Di Vicenza Giagnoli Restiamo uniti Questo l'invito Che il direttore artistico Antonio Falco Pochi giorni prima dell'evento Aveva rivolto con un videomessaggio A tutti i musicisti E ai cittadini garganici Esortandoli ad alzare la testa Dopo l'alluvione Che ha colpito il territorio E a restare insieme Nel nome della musica Un appello A cui hanno risposto Ben 206 bandisti Che domenica 14 settembre Una settimana dopo La data fissata inizialmente Hanno scelto di partecipare Al quarto raduno Bandisti del Gargano A Ischitella Sono arrivati da Peschici Carpino Vieste Cagnano Varano San Nicandro Garganico Vico del Gargano San Giovanni Rotondo E Rodi Garganico Oltre che ovviamente Da Ischitella Tra di loro C'erano uomini Donne Giovanissimi E meno giovani Il bandista più longevo Era Pasquale Del Rico Con i suoi 80 anni Ognuno di loro Portava con sé La dedizione E la passione Per la propria Banda locale Ma tutti Da quel momento Erano uniti Per rappresentare Un'unica identità La musica bandistica Del Gargano Un patrimonio Che va salvaguardato E trasmesso Di generazione In generazione Tutti con la stessa Uniforme Una maglietta Contraddistinta Dal nuovo logo Ufficiale Del raduno Bandisti Del Gargano A cui è stato Aggiunto Un cuore di carta Rosso Con la scritta Hashtag Il Gargano Vive Da lì Un esercito Di bandisti Armati Dei loro strumenti Ha iniziato Ad invadere L'intera cittadina Dando vita Ad un concerto Itinerante Lungo le vie Principali Del centro Garganico Passiamo allo sport Perché è stato pubblicato Il calendario Della seconda categoria Si partirà Dal 28 settembre Fino al 3 maggio La nostra compagine A est di San Nicandro Iscritta Con il nome di Sanctum Nicandrum Giocherà La prima partita In casa Contro la squadra Del cuore Di Rodi Garganico La partita Si svolgerà Domenica 28 Alle 15 attende Presso il nostro Campo comunale Sul sito Sannicandro.org Potete vedere Il calendario Completo Della competizione E questa è L'ultima notizia Per oggi Vi do l'appuntamento A venerdì prossimo Con una nuova edizione Nel nostro Tg Grazie per la visione Buon proseguimento Di serata Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione